I've been waiting all my life for someone like you, like you I would watch the days go by, wasted in blue, I was out of use Now every day, every night, every moment with you Bene amici, la recension di questa GoPro Max inizia con la Max Superview Che è una grande angolare pazzesca perché io ho la camera a circa 40 cm Guardate, mi inquadro quasi tutto, le braccia e anche un sacco di panorama Ma l'altra particolarità di questa GoPro è che mantiene l'orizzontalità della ripresa Guardate, sto facendo destra e sinistra col monopattino che si inclina tantissimo Eppure l'orizzonte è sempre piatto Ma adesso vediamo la stabilizzazione, vado un po' in fuoristrada Ma mi sono spostato da Superview a lineare dentro questa selva di pali Sto girando col monopattino, il monopattino si inclina un sacco per passare a destra e sinistra Eppure guardate l'orizzonte, ma soprattutto in lineare Guardate come l'obiettivo non distorce Questa cosa è fantastica E sempre grazie al 360 posso inventarmi viste particolari Tipo questa Mi piace un sacco questo gioco Vi faccio vedere anche la ruota del monopattino adesso Cambio camera E voilà, di stricarsi tra i pali Aiuto! Mamma mia! Sto schiantando, aiuto! E il Max Superview lo si può utilizzare in un sacco di ambiti Tipo questo, dove ci sono dei grattacieli In questo momento sto viaggiando sul pavè Quindi la camera vibra tanto Qua la migliore occasione per provare anche qua la stabilizzazione Se sentite dei cigoli, colpa del supporto a manubrio che sto usando per attaccarlo al monopattino Apochi! Ma qui visto che siamo a City Life direi di utilizzare la modalità a 360 gradi Anche qua vediamo com'è stabilizzata E magari adesso mi fermo un attimo Per invece valutare la ripresa Quando la camera è ferma Ok Ho messo sul cavalletto il monopattino Adesso vi faccio fare il giro con me Di City Life Piazza Tre Torri E tra l'altro su quella lì Dove sono gli ascensori panoramici Sì, sì, sono salito giusto settimana scorsa E poi a ritorno Prova di audio Con il vento Per il quale è leggera discesa Quindi il monopattino arriva fino a 27 km all'ora Anche se non si protegde E poi questo palazzo è sempre iconico Sempre bellissimo Ovviamente Feltrinelli e Microsoft Ma l'audio Poteva mancare il video in piazza Gaulenti? Sì, poteva mancare Ma mi serve per capire Se i 6 microfoni della GoPro Che riprendono a 360 gradi Funzionano Eh sì, come avete visto Le possibilità creative Date da questa GoPro Max Sono veramente tantissime Perché non solo riprende a 360 gradi Ma lei può riprendere anche in bidimensione 2D Come una action camera normale Ma rispetto a una action camera normale Ha una funzione che mi è piaciuta un sacco Proprio quella che si attiva con questo pulsantino Ovvero l'orizzonte sempre piatto E poi questa modalità Superview Veramente grandangolarissima Scusate la parola Ma anche in lineare Devo dire che funziona molto molto bene Guardate quello che intendo Io sto girando la camera destra e sinistra Ma vedete che l'orizzonte rimane sempre fisso E questa è una cosa molto importante Magari anche quando ci fanno le riprese selfie Così, beh, anche se ci muove un attimo L'orizzonte è sempre lì Senza bisogna stare attenti a tenere la action orizzontale Bellissimo Tra l'altro la possibilità data delle due camere È anche quella di poter cambiare punto di vista Quindi fare, come in questo caso, i vlog Quindi parlare alla camera E poi cambiare inquadratura Per passare a quell'altra Tra l'altro qua sono collegato in wifi Quindi vedete quello che sta riprendendo la camera Senza dover girare la telecamera Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta La cosa che non mi piace È il doverlo fare solamente stoppando la registrazione Cioè, mentre si registra Non si può cambiare camera Sarebbe una funzionalità interessante Perché un conto è quando la camera si tiene in mano Un conto è quando magari la si fissa al manubrio del bicicletta E magari serve la doppia ripresa Una da una parte e una dall'altra Per il resto ho trovato un software affidabile Come l'ho trovato sull'ultima GoPro 8 Quindi GoPro quest'anno ha lavorato bene Proprio sulla stabilità del software Le impostazioni per quanto riguarda La ripresa, diciamo, bidimensionale Chiamiamola così Si fermano a 1080 frame per secco 1080, scusate, risoluzione per 60 frame per secondo Se no in 4 terzi, 1440 Perché succede questo rispetto al 4K della GoPro 8? Semplicemente perché qua le due camere Vanno a riprendere una sfera di 360 gradi E la risoluzione di 5.6K si va a spalmare su tutta la sfera Quindi se dimezziamo la risoluzione Usiamo solamente un obiettivo Ovviamente non riusciamo ad aumentare troppo la risoluzione Per non andare a perdere troppo in grana Infatti la qualità in assoluto Delle riprese, diciamo, bidimensionale Di questa GoPro Max è inferiore rispetto a quella della GoPro 8 Proprio perché il sensore deve andare a recuperare dati su tutta la sfera Quindi la risoluzione un pochino si va a spalmare Ovviamente più andiamo a zoomare peggio è Cioè se andiamo da lineare fino a un'inquadratura stretta Vedete come la risoluzione cala ancora di più Però le possibilità dati da questa GoPro sono veramente tantissime Prima di tutto è impermeabile fino a 5 metri L'ho usata in un giorno di pioggia all'esterno su una vettura Avevo un test drive Non ho dovuto mettere né cover né niente Questa è una cosa molto comoda Come GoPro 8 ha il supporto, vedete Integrato in metallo Quindi molto robusto Da questa parte c'è la batteria Che è un po' più grande rispetto a quella di GoPro 8 Ma più o meno la durata è quella Si riesce a fare un'oretta di registrazione continua E se no stoppando e facendo ripartire Stoppando e facendo ripartire Lì dipende da quando la tenete Magari in stand by anche collegata con il cellulare Però diciamo che l'autonomia è buona Qua c'è l'espansione di memoria Con classiche micro SD E in confezione c'è una custodietta Ci sono due tappini per andare a proteggere le lenti Ma ci sono anche per proteggere le lenti questi cappuccetti Quando magari andate a fare una downheal Oppure c'è della ghiaia Metteteli perché vi potrebbero preservare da una rottura Poi in confezione poco altro Il cavetto di tipo C E un supporto Vedete da casco con qua il relativo aggancio Ma come funziona? Benissimo anche da un punto di vista audio 6 i microfoni E quando giriamo i 360 gradi sono sempre attivi In modo che quando giriamo l'inquadratura In fase di editing Si possa andare a prendere sempre l'audio migliore Ma vi faccio vedere come funziona Perché diciamolo I video a 360 gradi Così come le foto a 360 gradi Sono stati un flop Non vanno La gente che magari guarda dalla televisione Figuriamoci se va a spostare l'inquadratura Idem dallo smartphone Figuriamoci se uno va in giro così a guardare un video Quello che invece funziona tanto anche su questa GoPro È la possibilità di andare a fare una regia Dopo aver girato il video Adesso vi faccio vedere come Andando a vedere i contenuti che ci sono nella GoPro Sempre in streaming Si possono scaricare dalla GoPro allo smartphone Senza dover andare a spostare la scheda integrata Io ovviamente l'ho già fatto prima E vi faccio vedere come si possono montare Questi con il simboletto del mondo Sono i video a 360 gradi Vi faccio vedere per esempio questo che ho fatto in piazza Gaia e Aulenti Basta schiacciare questo pulsante Si entra in modalità proprio di editing E qua posso prima di tutto tagliare il video Ma soprattutto andare a mettere dei fotogrammi chiave Per esempio questo è un fotogramma chiave Lo voglio così Ok e me lo punto Poi voglio qua mettere un altro fotogramma chiave E inquadrare tutto un altro punto della piazza Lo posso fare così Tra l'altro posso anche definire il passaggio Tra un fotogramma all'altro Se farlo morbido Farlo un pochino più hard Qua facciamo il terzo fotogramma chiave Che voglio sia una cosa molto particolare Magari un piccolo mondo E adesso vedrete Schiaccio finito Posso salvare la bozza Oppure eseguire il rendering del video Oppure facendo play Posso andare a vedere la regia che ho fatto E adesso vedrete che si muove la telecamera Fino all'altro punto di vista Poi si muove ancora la telecamera E andrà a fare l'effetto piccolo mondo Tutto questo con una telecamera sola Altro esempio bellissimo per andare a editare È quello di poterlo fare con il giroscopio del cellulare Vi faccio un altro esempio Un altro video Eccolo qua A 360 gradi Guardate Parto Gli do il fotogramma iniziale Magari me lo setto Il fotogramma iniziale è questo qua Poi gli dico Utilizziamo l'over capture Anche qua posso scegliere lo zoom Inizio la cattura E qua sto facendo una regia Usando il giroscopio Guardate Se mi muovo su e giù Vado in questo momento a vedere Il monopattino Poi se faccio una rotazione Vado a vedere i grattacieli Posso muovermi con le dita Mentre catturo lo schermo Posso fare un effetto di questo tipo Quindi io che vado Tra i grattacieli con il monopattino Poi posso rizummare Posso ritornare qua Ripeto Dita oppure guardate Giroscopio Mi sto seguendo col giroscopio Poi faccio stop E posso andare a rivedere La scena che ho appena editato Cioè più che editato Diciamo ho fatto della regia Perché avendo una telecamera A 360 gradi È come se avessi infinite telecamere E posso scegliere i vari punti di vista Questa è una cosa veramente fantastica E a questo punto di vista È solo la fantasia Che può mettere dei limiti Ovviamente poi si può andare Ad esportare il filmato Anche abbastanza veloce Però attenzione Dovete avere un telefono Di ultima generazione Per andare a elaborare In tempi rapidi Tra l'altro tutto questo Si può fare anche da pc Vedete L'applicazione è sostanzialmente La stessa Qua si possono mettere I punti chiave Poi si può girare Tranquillamente Nella scena A 360 gradi Unica cosa che non si può fare Visto che il computer Non ha un accelerometro Andare a montare Spostando il computer Proprio per questo Alla fine io Ho optato Per il montaggio da smartphone Che è molto più comodo Perché il montaggio Ripeto La regia da smartphone Esiste E GoPro mette Già a disposizione Sul suo sito In download Il plugin Per Premiere Per andare a montare Poi in VR Dentro Dentro a Premiere Però ripeto Con lo smartphone È veramente Tutto molto Molto comodo Si possono fare Tranquillamente Anche le foto Basta schiacciare qua Si può fare Una foto Ovviamente a 360 gradi Però si può anche fare Una foto A 270 gradi E la GoPro Restituisce già Un'immagine Appiattita Se invece si fa Una foto a 360 Poi bisogna passare Dal telefono Per fare il lavoro Di prima Che vi ho fatto vedere Con i video Si può fare Ovviamente Anche per le foto Altra cosa Che si possono fare I video temporizzati E il time warp Cosa molto carina Una sorta di Timelapse Velocizzato Io ne ho fatto uno Magari ve lo faccio vedere Al volo qua Ho fatto un giro In In via Paolo Sarpi Ok Mando in play Il video Guardate E Questo è il risultato Per esempio Stavo superando Questa signora In bicicletta Vedete Oltre a essere un time lapse Ci si può anche muovere Perché è un time lapse A 360 Gradi Quanto costa questa GoPro 529 euro Non costa poco Ma veramente Mi permette di fare Tantissime cose Veramente interessanti Ripeto La risoluzione La definizione Non è paragonabile Alla definizione Di una GoPro 8 Proprio perché I 5.6k Vengono spalmati Sulla Sfera Quindi non si arriva Nemmeno al 4k In modalità lineare E un'altra cosa Rispetto alla Alla GoPro 8 La funzione Che mi piace di più Ripeto È la Linearizzazione Dell'orizzonte Che mi ha Veramente impressionato Vedete qua L'ho attivata Guardate Se io vado a muovere La camerina L'orizzonte Rimane sempre Sempre piatto Questa è una cosa Veramente che mi ha Impressionato Così come L'audio Molto buono Anche col vento Avete visto Su uno patino Fino a 27-30 km Allora Non sentiva assolutamente Il rumore Del vento Ci sono comunque I comandi vocali Si può fare Il live streaming Da applicazione Insomma Diciamo che Solo la fantasia Può mettere Dei limiti Alle cose Che si possono fare Con questa GoPro Però che mi è piaciuta Un sacco I competitor Insta One X Insta 360 Già mi era piaciuta lei Ha più o meno La stessa logica Di funzionamento Anche per quanto riguarda L'editing Da applicazione Ma è un po' Meno affidabile Un po' Meno Autonomia Non è impermeabile È vero che costa Anche meno Ma anche l'applicazione L'ho trovata Un filino Più Più acerbina Vediamo adesso Se questa R Insta 360 Riuscirà Invece Ad eguagliare Questa Questa GoPro Che per ora A livello 360 È la camera Che mi è piaciuta di più Anche per quanto riguarda L'affidabilità Finalmente Loro due Hanno un'affidabilità Degna del nome Che si portano Ah c'è una cosa Per cui Loro due non vanno benissimo Ed è la cosa che faccio io I video in auto Perché Questa super Iper stabilizzazione Fa sì che Quando le mettete davanti Ok Voi fate una curva La GoPro Con gli accelerometri interni Sente che state facendo la curva Allora La stabilizzazione Tende a girare L'inquadratura Un filo troppo E magari riuscite a andare Fuori Dall'inquadratura Però per tutto il resto Veramente top Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com Dall'inquadratura 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 Grazie.